Riprendiamo da dove eravamo rimasti e siamo sulle Alpi Italiane e più esattamente a Bormio, il primo giorno a Bormio. La discesa dal passo del Foscagno continua. Il primo giorno a Bormio. 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 Grazie a tutti. Stelvio. 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 Borgno. 1235. Stelvio. 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 questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati guarda altri video ce ne sono di vari generi la prima giornata a bormio è finita ma ce ne sono altre ciao alla prossima